I consiglieri comunali componenti della Commissione Cultura, Istruzione, Sport e Spettacolo di Agrigento, Carmelo Cantone, Alessandro Sollano e Simone Gramaglia, hanno presentato un atto di indirizzo politico per il ripristino del decoro e della fruibilità del Museo Santo Spirito. Carmelo Cantone afferma abbiamo esposto in Consiglio Comunale il problema del danno causato da infiltrazioni d'acqua in una sala espositiva del Monastero di Santo Spirito. Abbiamo richiesto un intervento urgente al rimedio dato che la struttura registra oltre 4.000 visitatori all'anno. Abbiamo chiesto all'amministrazione di attivarsi subito per ripristinare lo stato di sicurezza dell'intera struttura museale che rappresenta uno dei principali luoghi di interesse turistico e culturale della città. Ed ancora gli stessi consiglieri Cantone, Sollano e Gramaglia hanno presentato un altro atto di indirizzo all'amministrazione affinché si provveda ad un intervento urgente di pulizia, scerbamento e derattizzazione. Nel centro della città, dalla zona Monte della Via Tenea fino al Viale della Vittoria. Cantone afferma su sollecitazione dell'ABBA, l'associazione dei Bed and Breakfast di Agrigento. Abbiamo rappresentato il grave degrado in cui verse il centro cittadino e ho chiesto un immediato intervento di pulizia e derattizzazione.